La 17enne è stata criticata da due haters.Qualche settimana fa Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto nella società grazie a delle interviste realizzate sia in televisione che ad un giornale di gossip La figlia 17enne di Albano e Loredana Leciso è una ragazza molto semplice anche se in molti Swiss Michelle la considerano artefatta Da quando è stata ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso, il suo profilo Instagram è aumentato di followers, ma tra essi si nascondono, anche degli haters che non perdono tempo a criticare la giovane .Jasmine Carrisi offesa sul suo profilo Instagram.Alcume Oretta, infatti, Jasmine Carrisi è stata pesantemente criticata da due utenti web Nello specifico la figlia di Albano e Loredana Leciso ha pubblicato una nuova foto su Instagram dove si mostra in primo piano Occhi azzurri, viso angelico e rosetto rosso. La maggior parte la riempita di complimenti, ma non sono mancate le frecciate dei Leoni da tastiera Ecco i loro commenti due punti, punto ma perché già in bisturi, punto di domanda, virgola, punto mentre il secondo è più cattivo Ssssso sei sguercia, virgola, punto che in italiano vuol dire strabica, punto Jasmine Carrisi parla dei suoi genitori In una recente intervista Jasmine Carrisi aveva fatto delle dichiarazioni sul padre Albano e alla madre Loredana Leciso Mio padre è il più severo, al massimo posso tornare a casa a mezzanotte e mezza. In realtà i miei genitori sono entrambi tranquilli, ma con delle regole fisse, rispettare i patti, essere puntuale e andare bene a scuola Fin da piccola mio padre mi portava in giro per i concerti. Amo le canzoni di papà, anche se non sono il mio genere Intanto la ragazza molto presto sarà sul set di una pellicola cinematografia di costume A rivelare la notizia ci hanno pensato i suoi genitori nel corso di un'intervista A rivelare la notizia ci hanno pensato i suoi genitori nel corso di un'intervista